Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Cioè anche a me piace giocare, adesso ultimamente sono pure un po' stirato che ho fatto bagni di sangue Però adesso per dire per tre o quattro giorni non devo andare al casino perché non c'ho la fresca Poi settimana prossima ci ritorno, i deck con le ragazze Se ti fidanzi con una ragazza che è milionaria e tu hai... Anzi ma ho ragione, pago io ma ho ragione Ma perché? Pago io, non se ne pago Ma che senso ha? Ma cos'è, è disparità di genere, stai mettendo la donna su... Che disparità di genere? Ma che disparità di genere? Io sono un garantuomo, sono un signore, non sono un pezzente Ma non un pezzente perché i soldi sono senza Io sono un signore, l'uomo deve pagare la donna E secondo me questa filosofia... Ma non che lo deve pagare perché deve portarla a letto e deve conquistarla Un gentleman non deve mai far pagare una signora Questa è la mia idea Positiva anche lei Nicola, vedi? Le cavalle, cavallo No, per dire Fili Ok, voto così primo impatto, lei? Positiva anche lei I voti li facevano alla fine Ok, perfetto Prossima ragazza Prossima ragazza Questa è l'amica che... Questa è l'amica sua Sì che è collaborata... No, ho detto per dire Ok Piacere Filippo Adesso? Sono la migliore amica di Nicola No, calma, tutto rispetto spingere arriva da me Nevio Tutto rispetto per me Ce l'hai scritto dietro sulla maglia Aspetta però no Tutto rispetto che io... No, perché anche no, aspetta però... Vila Bex Quindi Vila Bex ha 20 anni, io ne ho 50, Nevio ne ha 60 Spingere arriva da Vila Bex secondo te Diggi qualcosa, Nevio, dai per favore Hai 50 anni? Quasi 50 Non va bene? Sono troppo vecchio No, no Mi porta bene però Non c'è ancora un cappello bianco Te lo dammo di me Ho un cane Una femmina Di un anno e mezzo Una cagna quindi Ah, chi doveva? È la battuta È bellissima Tra l'altro Clarissa è il nome di un gran cavallo al trotto che ha vinto le centinaje Ah, è vero, è verità Clarissa, di goccia d'oro sbaglio, Nevio? Sì Clarissa È un gol del retriever americano Tanta roba È bella Un po' bella Però perde un po' di peli E quindi fai anche l'influencer Faccio anche l'influencer Ma quanti follower c'hai? Io ho tirato tre manate sulla faccia, le accusate E dopo è intervenuto il mio amico Oscar che l'ha lanciato per terra E poi è scappato via La colana ce l'avevo penzolante rotta Quindi mi fanno, ma che c'è la colana, questo qua è scappato via e è finita lì Ok, ok, ok Allora, presentiamo il format di oggi Allora, noi, io, Nevio e Jody siamo qua in veste di commentatori, suggeritori Insomma, siamo qua guardate Riesci portarmi una Lycos, per favore? Se la togli da qualche parte? Che la vorrei fumare anche io Scusa, sì, ma io, cioè, vorrei andare a fumare Grazie Per fumare? Io non posso andare, mi alzo un attimo Aspetta che ti spendo il microfono allora È tornata la cavalla No, vai Cioè Scusi, cavallone Nicole, giusto? Come avete fatto a ribeccarlo, scusami? No, lui mi ha fermato questo ragazzo di colore Mi fa, uè fratello Non è rilevante che sei di colore No, invece è rilevante No, invece è rilevante Carissa molto positiva Ok, prossima ragazza Questa direi molto prorompente Scusate, direi molto prorompente Piacere Piacere Filippo Nicole Piacere Faccio vent'anni a luglio Tremona Che andiamo a prendere i vestiti So se lo conosci il baffo Sì Lui? No, no, è un altro baffo Un altro baffo C'è un negozio di abbigliamento Comunque sto tavolo trasparente Cioè È un po' pericoloso No, no È un po' pericoloso Ma lei che guardo io È tutto trasparente Scusa, non mi permetterai mai No, mamma Non ti luo Non ti luo Ok Lavoro per il cavallo Oh, lavora quel cavallo Questa niente ha tanta roba Oh, mamma mia Sono proprio azzeccato Perché poi se sali di età E hanno i figli Sono tutti problemi Tutte rogne Quindi meglio evitare No, non ce li ho Non ancora Per te Dai 70 agli 80 Che c'hanno la fresca Cioè, hai capito? Ok, ok Quindi abbiamo fatto bene A mettere Filippo lì Perché è regolare Prossima puntata Oh, prossima puntata Chiamiamo le vecchie Con Nevio Tu lo fareste lo speed date con le anziane? Ma qua Questa è la fresca No, io abito Questa è l'amica sua Sì che collabora No, dai No, l'ho detto per dir Ok Piacere Filippo Adesso Sono la migliore amica di Nicole Anche io alcolizzata Ho 23 anni Ragazzi, ma no, scusate Tanta roba Quasi Non troppo Quasi E tu fai lavori anche te Lavori seriamente O fai le ragazze immagini anche te? L'aiuto al maneggio di cavalli E faccio la barista Scusa, ma a questo punto C'è l'ottima, tranquilla Lo bevo io, non c'è problema Ce n'è più per me Tu pensi di aver visto tante vite, vero? Abbastanza Sicuramente più di tanta gente Nevio è come se avesse fatto cinque vite Te lo posso garantire Te lo metto per iscritti Hai tante cose da raccontare Dovresti fare un libro Lo stiamo preparando State preparando un libro? A breve, sì Ok, ok Comunque, cosa cerchi in un ragazzo? Cosa ti piacciono gli uomini? E come deve approcciarti un ragazzo per Insomma, una cosa che ti piace No, un sogno Adesso abbiamo solo C'è proprio il primo impatto No? Tu vedi una ragazza e a pelle hai delle sensazioni Ma com'è che ogni ragazza che vede e vede e le mutante? No, no, no Non è coppamia Scusa Non è coppamia Scusa, Clarissa Vieni qua Vieni qua No, ma però se tu ti.. Scusa, vieni qua Lo vedi L'argomento dell'amore Come vive l'amore Cosa vuole in una relazione Che cosa cerca nella controparte Insomma Quindi Prima ragazza Adesso è arrivato Ma non ce l'hai non freddo Se ce l'hai in ambiente è meglio Attenzione arriva Clarissa Adesso è una cosa in più su Clarissa Clarissa è Tutte rifatte Di cosa parliamo? Tutto è tutta naturale Si vede Non hai mai visto due tette in video tua L'ha capito scusa No ma poi Devo ancora fare i vent'anni Non mi rifaccio così giovane Ma che le rifai Vai bene così Che rifai Non rifarti mai Tu hai detto che anche tu sei alcolizzata Giusto? Sì Ok E invece qual è la tua visione Sul gioco d'azzardo? La verità devi dire Sì 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 A volte gioco ai gratte vinci Ah beh Però le macchinette Non ci so giocare So che ci sono Un tasto No No tu sei del sud Perché lui è meridionale Allora io dico sempre Perché se la mia donna Mi da tutto Io non ho bisogno di andare a tradirla con altre Ok Se la mia donna non mi da tutto Allora vado con le altre Ok Ok Va bene Grazie che la di sta Anch'io questa cosa la Ti giuro E ve l'ho fatto anche Ok Oh vedo una certa sintonia Comunque grazie Se ti interrompo Con questi microfoni F-Duce L'audio non può che andare al top Se posso dire la scusa Se posso dire la scusa E non so Dulce e tanta roba Ma come tanta roba Ciao Ma no Filippo E sono un grande amante del pelatone No No Questa è una cosa Da cui prendiamo Prendiamo le distanze Allora Innanzitutto Molti di voi di te Ciao Non ci vediamo noi Tre dietro Ma Carissa Sono idiota Può succedere dai Può succedere dai Si è rotta No Speriamo di nuovo Abbiamo su 4 mila euro di fotocamera Ma come siamo Ancora va Che salta la live No ma che salta la live è impossibile Ma si è staccato un cavo Cosa si è staccato No Può succedere Mi sono già risposto su due ragazzi Vabbè Non ne ho spoileriamo Non dico niente Grazie mille Grazie mille Un po' di Se si può bastare la condizionata Si è vero che sto gelando Si senti i pinguini qua dietro Mi faccia ma dire Io sono mica vent'anni Sono vecchio Ok Sivo mi dai da tuo Posso prendere Certo Se non ti scoccia Se non è scarico Grazie Sivo Prego Vieni Noemi Vai Noemi Ciao Noemi Dimmi